Il campo scuola organizzato dalla protezione civile Bellizzi è un campo scuola pensato per ragazzini dai 12 ai 16 anni che vogliono intraprendere l'attività di protezione civile. Il campo scuola dura una settimana ed è svolto nel centro di addestramento di proprietà dell'associazione. I ragazzi la notte dormono in tenda e ogni giorno svolgono attività che simulano situazioni emergenziali proporzionali alla loro età. Grazie per la visione!